TQIC TV, benvenuti, siamo a Tupeltù con il sindaco di Vicenza e il presidente della provincia, Francesco Rucco, per capire quale città sogna e per quale città sta invece lavorando concretamente. Benvenuto Francesco. Grazie, grazie a voi. Allora, com'è essere sindaco di Vicenza, come l'aveva immaginato? Beh, diciamo che è abbastanza complesso e impegnativo. Io, per l'altro, vengo dal mondo della professione privata, facendo l'avvocato ho dovuto congelare la mia attività professionale e dedicarmi al 100% alla città di Vicenza. Lo sapevo, lo presumevo, però devo dire che è un impegno, chiaramente un onore, ma anche un onore importante. Si sente solo come sindaco o si sente circondato dall'affetto dei cittadini? No, mi sento sostenuto dai miei concittadini che, devo dire, per strada, tutti i giorni manifestano l'apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo, è un lavoro comunque faticoso perché abbiamo ereditato una macchina comunale complessa e in difficoltà, male organizzata, e stiamo cercando di ripartire anche con l'organizzazione della macchina affinché sia più efficiente e dia risposte. E devo dire che gli sforzi però stanno ripagando perché un po' alla volta stiamo trovando l'assetto giusto per dare le risposte che i cittadini ci aspettano. Come vorrebbe diventasse questa città? Tra cinque anni o quattro anni ormai, quando sarà finito il suo mandato, che città vorrebbe lasciare? Potrebbe sembrare banale quello che dico, però sicuramente è una città più sicura, con meno degrado e più pulita. Ho trovato una città dove la percezione della sicurezza non era assolutamente positiva e il cittadino non si sentiva sicuro. Infatti c'era molta paura, vero? C'è tutt'ora forse a muoversi di sera in certe zone, nei parchi? C'è tutt'ora timore, però devo dire che stiamo facendo un lavoro importante con l'aiuto delle forze dell'ordine. Un po' alla volta stiamo lavorando grazie anche alla polizia locale che sta cambiando l'atteggiamento, sta passando dal codice della strada, quindi dalle sanzioni amministrative, a un lavoro più territoriale, quindi più sull'antidegrado, con delle pattuglie ad hoc dedicate. C'era questa percezione, quindi una città anche più pulita, una città che non lo era affatto, quindi la stessa raccolta dei rifiuti, della differenziata, è una raccolta che ha dei problemi che stiamo cercando di riorganizzare un po' alla volta. Certo. Quali sono i tre problemi che avete finora affrontato con successo? I problemi con successo sicuramente sono stati alcuni interventi sulla viabilità, uno su tutto mi viene in mente di Vittorio Veneto, lo spostamento dei parcheggi dall'autostrada per favorire la circolazione perché si creava un intasamento di traffico per andare da Ponte degli Angeli verso il patronato, per intenderci. Sicuramente siamo riusciti a sbloccare finalmente la bonifica del parco della scuola 2 Giugno, dove i ragazzi hanno dovuto subire uno spostamento in un'altra scuola perché l'area era altamente inquinata e finalmente siamo riusciti ad appaltare i lavori dopo il ritardo degli anni passati e a breve i ragazzi torneranno nella loro scuola, che è un successo importante perché i genitori e i ragazzi ci tengono particolarmente. Queste sono le questioni un po' più importanti. Ci aggiungerei anche alcune operazioni di polizia, soprattutto antidroga, grazie alla polizia locale e al cane antidroga, che è un servizio che abbiamo inserito da breve e con successo stiamo sequestrando quantitativi di droga importante. Vicenza è un po' più sicura adesso secondo lei? Secondo me sì, c'è però ancora molto da fare, però c'è un percorso lungo, degli investimenti importanti da fare, dovremmo assumere più polizia locale, dare più presenza sul territorio, dando la sensazione di percepire al cittadino che la città è più sicura. Tre problemi che invece non siete ancora riusciti a risolvere, più difficili di quello che pensavate? Beh, ce ne sono tanti per la verità e alcuni sono legati alla mancanza anche di fondi. Mi viene in mente sicuramente la parte sull'antidegrado, in particolare tutte quelle azioni di vandalismo, chi imbratta i muri o imbratta i monumenti, questa mattina abbiamo investito, annunciato 15 mila Euro sulla Basilica Palladiana per ripulire dalle scritte di alcuni vandali le scalinate della nostra Basilica. Il sistema, il potenziamento della videosorveglianza, vorremmo fare di più, abbiamo fatto già delle cose importanti, porteremo delle nuove telecamere, però ci vogliono risorse, quindi dovremmo partecipare a bandi anche regionali e nazionali per ottenere i finanziamenti. E poi un altro tema importante è quello di dare una risposta, che è la cosa più complicata, a quelle persone che decidono di vivere per strada e non accettano l'aiuto del comune che da loro un ristoro, da loro un tetto sotto il quale dormire e preferiscono stare per strada. Questa è una cosa che mi dà una grande frustrazione perché da un lato è comunque un contrasto al degrado della città, dall'altro è aiutare delle persone che sono in forte stato di bisogno e di indigenza e pensare che Vicenza, essendo una città che ancora sta bene, tutto sommato nonostante le difficoltà, possa dare delle risposte a queste persone e queste persone non accettano l'aiuto, questo è un senso di frustrazione pesante. Verrebbe da chiedere i giardini salvi, che secondo me sono proprio il biglietto di accoglienza della città, una delle zone più belle e importanti dal punto di vista economico, perché aveva ospitato le prime fiere, si riesce a sistemare quest'area finalmente? I giardini salvi intanto… Con le strutture intendo anche adiacenti? Esatto, intanto di recente abbiamo concluso i lavori della loggia vicino alla sede degli industriali e quella, se chi passa può vederlo, troverà la seriola che è completamente svuotata, verrà ripulita a breve, stiamo lavorando sulla gara d'appalto per la pulizia e riprenderà il suo corso d'acqua, sperando appunto che torni ad essere bello come un tempo, perché ha avuto problemi pesantissimi in questi ultimi anni. Sull'Ex Fiera, sull'Arlecchino, su quelle aree chiaramente ci vogliono risorse importanti, lì stiamo cercando di partecipare a dei bandi europei che ci permettono di avere delle risorse che altrimenti il Comune non è in grado di avere, di investire. Ha parlato di associazioni industriali per quanto riguarda l'economia di questa nostra vicenza, in questi anni ci sono stati tanti punti negativi dai problemi delle banche, la crisi economica, insomma i negozi che chiudono, come possiamo fare per dare speranza e per dare anche un incoraggiamento a tutti gli operatori del settore? Io sono francamente ottimista perché credo nell'imprenditore veneto che si è sempre rimboccato le maniche dopo tutte le difficoltà di tutti gli anni passati, in particolare quest'ultima crisi, la più forte a livello globale probabilmente degli ultimi decenni. Questa crisi ha portato anche alla perdita di una banca del territorio come la Banca Popolare di Vicenza con una crisi socio-economica che ha colpito famiglie, investitori, piccoli investitori, ma anche imprese. Credo che il vicentino medio, l'imprenditore, si stia rimbuccando le maniche, stia ripartendo, nonostante le difficoltà che comunque rimangono, c'è un principio di recessione, questo lo dicono tutti gli economisti, però Vicenza rimane un modello industriale importante, il terzo distretto d'Italia dopo Milano e Torino per una provincia di 900 mila abitanti è un miracolo, un miracolo economico che esportiamo, sono stato raccontato anche pochi giorni fa alla stampa di recente per il modello Vicenza per portarlo in Kazakistan con Confindustria, e devo dire che anche in paesi lontani, ai confini con la Cina, con la Russia, Vicenza viene vista proprio come un modello industriale di riferimento e aspettano che gli investitori arrivino anche lì e stiamo cercando di aprire nuovi collegamenti. State lavorando quindi con le categorie economiche? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando, stiamo lavorando con un confronto non solo sulla parte economica ma anche sulle infrastrutture, stiamo lavorando perché la TAV si faccia, quindi stiamo facendo un'azione di sindacato importante, trasversale, destra-sinistra, senza differenziazione politica, con le categorie, con i sindacati, con gli amministratori locali, con i sindaci, con i parlamentari veneti, affinché, questo è il tema del momento, riusciamo a convincere questo governo a sbloccare la TAV, sappiamo che una parte del governo lavora, l'altra parte no, bisogna superare questi steccati ideologici e portare le infrastrutture in un territorio che ne ha bisogno anche per riprendere quel vigore economico che aveva un tempo. Ma cioè Tosti riuscirà questa impresa secondo lei? Io sono ottimista, sono ottimista e l'11 marzo a breve avremo l'incontro di tutte le categorie, amministratori, parlamentari, consiglieri regionali, per fare il gioco di squadra, andare giù a Roma a chiedere che questa infrastruttura venga realizzata. Parliamo invece di cultura, perché Vicenza è anche cultura, non solo Palladio, ma anche tante altre iniziative. Che progetti avete per la cultura? Per la cultura intanto stiamo portando a termine, abbiamo prorogato qualche giorno fa, fino al 5 maggio, la mostra Il trionfo del colore. Una mostra a cui ho tenuto particolar modo, purtroppo ha suscitato delle polemiche, perché all'inizio non era partita benissimo, adesso in tre settimane ha raggiunto 10.000 presenze. Per il museo come il Chiericati è un risultato storico, perché il museo Chiericati ovviamente non è paragonabile alla Basilica Palladiana come capienza di pubblico. Vedere a Vicenza quadri di Canaletto e Tiepolo provenienti dal Puschi di Mosca è comunque una soddisfazione e la Vicenza, città, provincia, ma anche la regione e fuori regione sta rispondendo molto bene con un pubblico che sta prenotando per migliaia di presenze l'accesso a questa mostra. Tornaranno anche in Basilica le mostre? Le mostre tornaranno in Basilica, il progetto è un progetto triennale su cui stiamo lavorando con il CISA, Centro Studi Architettura nella Palladio e con il Teatro Comunale e ovviamente l'assessorato della cultura che io rappresento e di cui abbiamo mantenuto la delega, per portare in Basilica delle mostre di livello internazionale con un grande pubblico. Sono un progetto triennale, tre mostre e questo è l'obiettivo e stiamo lavorando per che le prossime settimane venga presentato questo progetto. Lei è anche Presidente della provincia di Vicenza adesso, come riesce a conciliare questi due ruoli e come lavorerà per favorire entrambe le cose? Me lo chiedo anch'io, anche perché non riesco più a fare l'avvocato, quindi mi sto dedicando alla città e alla provincia. Devo dire che è un'altra bellissima esperienza, peraltro un caso rarissimo di un progetto unitario, trasversale che va da destra a sinistra, coinvolge il PD e la Lega con un Presidente civico che sarei io che rappresenta un po' tutte queste realtà politiche e civiche del territorio e si concentra su alcuni temi di competenza stretta, che sono la viabilità nelle nostre strade della provincia, gli istituti scolastici, quindi tutta la parte dell'edilizia scolastica e in particolare anche la sicurezza ambientale, che è un tema delicatissimo perché il tema FAS che ha colpito il territorio dell'Ovest Vicentino, quello in particolare, ma anche il caso dell'inquinamento Miteni, a Trissino dell'azienda Miteni, sono temi di stretta attualità che devo dire lasciano qualche preoccupazione, ma che la provincia e la regione stanno seguendo e affrontando con grande professionalità e sono convinto che arriveremo anche a una bonifica importante del sito. Vicenza nel Veneto, a cuore della regione, come vi rapportate con le altre province, che ruolo può avere in questa regione e poi nel panorama nazionale anche? Veneto è una grandissima regione, una delle più attrattive dal punto di vista turistico, stiamo lavorando molto bene con alcune città, con alcune province, Verona, Treviso in primis, c'è un ottimo rapporto, uno scambio anche di vedute su alcuni temi, cultura, sicurezza in particolare. Con Verona stiamo lavorando anche sulla possibile aggregazione tra le aziende multi-utility municipalizzate, IEM e GSM, per vedere di creare un'aggregazione veneta che possa poi andare sui mercati ed essere competitiva sul tema del gas, dell'energia, dell'elettricità, della raccolta rifiuti etc. Devo dire che Vicenza può tornare ad essere protagonista come un tempo, non solo dal punto di vista economico, ma anche politico, perché abbiamo esponenti importanti, uno su tutto di cui pregio di avere l'amicizia è il Ministro Stefani che sta lavorando sull'autonomia con grandi difficoltà, perché Roma ancora una volta tenta di mantenere la centralità a discapito dei Veneti e io che notoriamente non sono di origini padane, sarei favorevolissimo all'autonomia del Veneto, perché credo che i Veneti possano trarne benefici sia a livello economico che a livello politico e locale importante. I cittadini li incontra? Cosa le chiedono? A me piace molto il contatto con il cittadino e notoriamente l'incontro sia nei miei uffici che per strada, quindi cerco di essere il più disponibile possibile, mi chiedono semplicemente dalle cose più banali come può essere una buca, un marciapiede o un problema vicino all'abitazione a temi più importanti come il sociale piuttosto che la sicurezza, il tema del momento è il contrasto al degrado e alla micro criminalità, vogliono sentirsi più sicuri, Vicenza non è il Bronx, è una città comunque che ha un tasso di criminalità basso fortunatamente, però ha dei problemi oggettivi, uno su tutti lo spaccio in alcune zone della città, spaccio, furti, rapine, questi sono i reati più gravi normalmente, che sono comunque in calo grazie anche al lavoro della polizia, delle forze di polizia e delle forze dell'ordine, quindi il cittadino chiede sostanzialmente questo, chiede di sentirsi più sicuro, è una questione di percezione, più di sicurezza reale. E la sua famiglia cosa dite, rucco sindaco? Si lamenta o…? Devo dire che io ho due bambine piccole, 8 e 11 anni, che la vivono un po' come un gioco, e voglio che la vivano come un gioco, perché sono delle bambine, quindi vivono sdramatizzando un po' il ruolo, ho mia moglie molto presente, anche quelle bambine, anche con me, cerco di coinvolgerle nella mia vita anche pubblica, non perché voglio esporle, ma perché voglio che vivano questa esperienza a livello familiare, cioè la cosa che ho chiesto a tutti è di non compromettere mai la mia famiglia per la politica, piuttosto lasciare la politica. Mi sembra una giusta visione, concludiamo dicendo che sindaco vuole essere per questa città, per i suoi cittadini? Ma un sindaco… sicuramente non sono un sindaco dei grandi proclami, non mi piace uscire senza avere delle basi solide su quelle che vado a dire, quindi quando faccio un annuncio perché ci sono delle basi, sto dicendo le cose e non perché dopo vengano smentite, salvo naturalmente eccezioni dove non dipendono dalla mia volontà, quindi un profilo basso però efficace, operativo, concreto, molto pratico, non mi piace la chiacchiera, mi piace molto il fare, il fare concreto, lo facevo nella mia professione, quello spirito privatistico vorrei portarlo all'interno del pubblico e quindi all'interno della mia esperienza dell'amministratura. Infatti, non parole, penso sia proprio quello che i cittadini chiedono. Chiedono fatti. Esatto, grazie al sindaco Francesco Rucco per essere stato con noi in questa puntata e buon lavoro, allora un bocca al lupo per tutte le vostre iniziative. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.